Lei ha un anti-Bernusconismo maturo piuttosto radicato. Si sbaglia perché la scelta non è né persecutoria né ha voluto essere un qualcosa in cui si chiede non so che risarcimento danno per il Senato. La scelta è stata motivata da un senso del dovere e di responsabilità nel prospettare la presenza del Senato in un processo che lo vede intimamente coinvolto in una vicenda che noi speriamo che non sia vera, che non si possa provare la verità perché sarebbe veramente destituzionalizzante per il Senato. Secondo le sue dimissioni dicono che ha perso il suo ruolo di terzi attività.